Ciao ragazzi, dopo una lunghissima notte sul treno siamo arrivati all'alba a Varanasi. L'atmosfera è decisamente magica, si attraversa un fiume di accattoni, di merda, di immondizia. E poi alla fine ci si ritrova qua sulla riva del fiume, che mi aspettavo puzzolente invece non lo è, con una marea di turisti e pellegrini. Fa caldo. È bello, no? Fa caldo.